secondo me il detto siamo nati per soffrire lo ha inventato una donna mentre indossava uno di quei tanti reggiseni che veramente quotidianamente ci fanno soffrire o sono troppo stretti o sono troppo larghi o stringono e ci fanno male insomma è una vera e propria sofferenza di cui faremmo volentieri a meno ma finalmente possiamo risolvere questo problema con ligerissimo ligerissimo è un prodotto veramente straordinario è sinonimo di comfort e di bellezza che sono due elementi essenziali nella vita quotidiana di ogni donna e finalmente possono diventare conciliabili ma prima di parlarvi delle caratteristiche che rendono unico ligerissimo vorrei lanciarvi una sfida vediamo se indovinate quale di queste due ragazze non indossa il reggiseno ad atto a lei e quindi pregherei il nostro regista di fare una bella inquadratura a queste due bellissime donne accanto a me credo che chiunque di voi abbia notato la differenza tra questo e questo reggiseno prego cristina vieni qui da me come possiamo notare anche le più piccole imperfezioni di un qualsiasi reggiseno in commercio diventano veri e propri difetti quindi deformando l'abito che indossiamo compromettendo nella grazia e l'eleganza il reggiseno classico con le bretelle le asole i ferretti i gancetti deforma il vestito provocando anche un rossore un pruito che sono veramente fastidiosi vedete queste sporgenze che si formano sotto le ascelle oltre a essere particolarmente fastidiose vero cristina sì non vedo l'ora di togliere ecco appunto fastidiosissime creano un prurito addirittura delle scoriazioni insomma un senso di costruzione davvero insopportabile posso abbinarlo a qualsiasi abbigliamento elegante e sportivo avendo sempre lo stesso sostegno mi sento fasciata e protetta non c'è niente da fare un cattivo reggiseno può compromettere l'aspetto estetico della nostra figura e allora grazie cristina puoi andare in camerino a togliere il tuo vecchio reggiseno e indossare il tuo lingerissimo non sopportavo più i miei vecchi reggiseni mi davano continuamente fastidio e non ne trovavo uno adatto ai miei vestiti più belli da oggi però con lingerissimo questo problema fortunatamente è solo un ricordo guardate qui anch'io da quando uso lingerissimo non ho più voglia di usare reggiseni classici credetemi è tutto un altro mondo il reggiseno lingerissimo è prodotto da una macchina ultramoderna ideata per confezionare reggiseni che sostengono senza bisogno di alcun ferretto ed ecco un prodotto completamente liscio sui lati senza ganci e asole per assicurarvi un comfort perfetto è fatto di un materiale risultato da numerosi progetti industriali che hanno portato alla fabbricazione di un tessuto completamente anti allergico elasticizzato e che non si deforma col tempo e coi lavaggi l'arricciatura sotto il seno realizzata con morbide e sottili cuciture fa sì che chi lo indossa rimanga fresca ma allo stesso tempo protetta e sostenuta generando così una piacevole sensazione di benessere chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di tre reggiseni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio non credete sia arrivato il momento di smetterla di lottare con i reggiseni scomodi e che vi stanno male non credete sia arrivato il momento di passare da così a così la risposta è una sola lingerissimo basta scegliere la stessa misura dei vostri abiti ed entrerete nel più comodo e versatile reggiseno che abbiate mai indossato sia che siate minute o molto formose avrete sempre un reggiseno comodissimo che si adatta al vostro corpo ed esalta le vostre forme senza darvi quella spiacevole sensazione di disagio tipica dei reggiseni classici col ferretto e con i ganci che non vedete l'ora di togliere con lingerissimo invece potrete addirittura tenerlo per dormire esatto anche durante la notte sarete fresche comode sostenute perfettamente a volte ed avrete anche un aspetto sexy ed attraente non si deformerà nel tempo non passerà mai di moda e dopo aver provato il comfort di lingerissimo non lo cambierete per nessun'altra cosa al mondo allora cosa aspettate dite addio a quei rotolini di ciccia che rovinano il vostro aspetto lingerissimo modella il vostro corpo rendendolo liscio e perfettamente sostenuto assicurandovi sempre la misura giusta per voi e una presenza elegante e femminile non cercatelo nei negozi e non aspettate che vi costi di più chiamate adesso e approfittate di questa promozione incredibile lingerissimo e tutto un altro mondo vedete questa guaina con effetto push up realizzata dai creatori di lingerissimo per contenere la pancia e sollevare i glutei è assolutamente perfetta nel design anatomica e comoda da indossare per le prime 30 telefonate sarà inclusa nell'offerta lingerissimo dunque non esitate chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di tre reggiseni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio avete sentito basta una telefonata per approfittare di questa fantastica offerta e provare lingerissimo è davvero comodissimo da quando ho scoperto lingerissimo ho risolto definitivamente i miei problemi che avevo con i reggiseni tradizionali bentornate quindi il reggiseni lingerissimo sono unici non temono confronti né per qualità né per versatilità ma adesso andiamo a vedere con che tipo di abbigliamento possiamo abbinarli per lo sport per il lavoro per una serata speciale o anche per la notte e questo perché lingerissimo ha un design veramente moderno e possiamo adattarlo ad ogni tipo di abbigliamento quindi dal capo più sportivo a quello più elegante danno sostegno una bella forma e soprattutto una grande comodità e adesso andiamo a provare l'elasticità e la qualità del tessuto di lingerissimo erica mi vuoi dare una mano proviamo a tirare anche forte e tornato nella sua forma originaria liscio e perfetto come seta lingerissimo l'ultima frontiera del reggiseno elasticizzato fresco sexy comodo e super resistente è lavabile in lavatrice e non si deforma col tempo facilissimo da indossare basta infilarlo dalla testa o addirittura dai piedi senza ganci asole o ferretti lingerissimo sostiene avvolge e rende il vostro aspetto ancora più sexy lasciandovi tutto il giorno comodo e belle un'altra caratteristica importante di lingerissimo sta nella scelta della taglia beh vi dirò la verità io non indovinavo mai sarà la coppa b la c la d insomma sbagliavo sempre ma avete notato perché perché la taglia di una marca non corrisponde mai alla stessa taglia di un'altra marca ma con lingerissimo questo problema non lo avrete più perché dovrete scegliere la taglia del vostro top o di una camicia o di un abito la stessa identica taglia quindi dalla x small alla x x x l è semplicissimo lingerissimo sostiene avvolge e rende il vostro aspetto ancora più sexy lasciandovi tutto il giorno comode e belle lingerissimo è tutto un altro mondo vi assicuro cari amiche che lingerissimo diventerà un capo di cui non potrete più farne a meno e poi un capo versatile ci sono tanti modi di usare lingerissimo ecco guardate per esempio la nostra sabrina che lo indossa sovrapposto con diversi colori oppure la nostra erica vedete lo sta indossando sotto una camicia ma è un capo davvero versatile lo potete indossare per andare a fare shopping per andare a fare una passeggiata per andare in palestra addirittura anche per andare a dormire vi ricordate delle spalline dei gancetti dei ferretti delle cuciture è giunto il momento di approfittare di lingerissimo restate con noi lingerissimo è l'ideale per me che faccio sport perché posso lavarlo quando voglio senza che mi si rovini non credete sia arrivato il momento di smetterla di lottare con i reggiseni scomodi e che vi stanno male non credete sia arrivato il momento di passare da così a così la risposta è una sola lingerissimo basta scegliere la stessa misura dei vostri abiti ed entrerete nel più comodo e versatile reggiseno che abbiate mai indossato sia che siate minute o molto formose avrete sempre un reggiseno comodissimo che si adatta al vostro corpo ed esalta le vostre forme senza darvi quella spiacevole sensazione di disagio tipica dei reggiseni classici col ferretto e con i ganci che non vedete l'ora di togliere con lingerissimo invece potrete addirittura tenerlo per dormire esatto anche durante la notte sarete fresche comode sostenute perfettamente a volte ed avrete anche un aspetto sexy ed attraente non si deformerà nel tempo non passerà mai di moda e dopo aver provato il comfort di lingerissimo non lo cambierete per nessun'altra cosa al mondo allora cosa aspettate dite addio a quei rotolini di ciccia che rovinano il vostro aspetto lingerissimo modella il vostro corpo rendendolo liscio e perfettamente sostenuto assicurandovi sempre la misura giusta per voi e una presenza elegante e femminile non cercatelo nei negozi e non aspettate che vi costi di più chiamate adesso e approfittate di questa promozione incredibile lingerissimo è tutto un altro mondo vedete questa guaina con effetto push up realizzata dai creatori di lingerissimo per contenere la pancia e sollevare i glutei è assolutamente perfetta nel design anatomica e comoda da indossare per le prime 30 telefonate sarà inclusa nell'offerta lingerissimo dunque non esitate chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di tre reggisegni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio avete sentito basta una telefonata per approfittare di questa fantastica offerta e provare lingerissimo secondo me il detto siamo nati per soffrire lo ha inventato una donna mentre indossava uno di quei tanti reggiseni che veramente quotidianamente ci fanno soffrire o sono troppo stretti o sono troppo larghi o stringono e ci fanno male insomma è una vera e propria sofferenza di cui faremmo volentieri a meno ma finalmente possiamo risolvere questo problema con lingerissimo lingerissimo è un prodotto veramente straordinario è sinonimo di comfort e di bellezza che sono due elementi essenziali nella vita quotidiana di ogni donna e finalmente possono diventare conciliabili ma prima di parlarvi delle caratteristiche che rendono unico lingerissimo vorrei lanciarvi una sfida vediamo se indovinate quale di queste due ragazze non indossa il reggiseno adatto a lei e quindi pregherei il nostro regista di fare una bella inquadratura a queste due bellissime donne accanto a me credo che chiunque di voi abbia notato la differenza tra questo e questo reggiseno prego cristina vieni qui da me come possiamo notare anche le più piccole imperfezioni di un qualsiasi reggiseno in commercio diventano veri e propri difetti quindi deformando l'abito che indossiamo compromettendo nella grazia e l'eleganza il reggiseno classico con le bretelle le asole i ferretti i gancetti deforma il vestito provocando anche un rossore un prurito che sono veramente fastidiosi vedete queste sporgenze che si formano sotto le ascelle oltre a essere particolarmente fastidiose vero cristina si non vedo l'ora di togliere ecco appunto fastidiosissime creano un prurito addirittura delle scoriazioni insomma un senso di costrizione davvero insopportabile posso abbinarlo a qualsiasi abbigliamento elegante e sportivo avendo sempre lo stesso sostegno mi sento fasciata e protetta non c'è niente da fare un cattivo reggiseno può compromettere l'aspetto estetico della nostra figura e allora grazie cristina puoi andare in camerino a togliere il tuo vecchio reggiseno e indossare il tuo lingerissimo non sopportavo più i miei vecchi reggiseni mi davano continuamente fastidio e non ne trovavo uno adatto ai miei vestiti più belli da oggi però con lingerissimo questo problema fortunatamente è solo un ricordo guardate qui anch'io da quando uso lingerissimo non ho più voglia di usare reggiseni classici credetemi è tutto un altro mondo il reggiseno lingerissimo è prodotto da una macchina ultramoderna ideata per confezionare reggiseni che sostengono senza bisogno di alcun ferretto ed ecco un prodotto completamente liscio sui lati senza ganci e asole per assicurarvi un comfort perfetto è fatto di un materiale risultato da numerosi progetti industriali che hanno portato alla fabbricazione di un tessuto completamente antiallergico elasticizzato e che non si deforma col tempo e coi lavaggi l'arricciatura sotto il seno realizzata con morbide e sottili cuciture fa sì che chi lo indossa rimanga fresca ma allo stesso tempo protetta e sostenuta generando così una piacevole sensazione di benessere chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di tre reggiseni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio non credete sia arrivato il momento di smetterla di lottare con i reggiseni scomodi e che vi stanno male? non credete sia arrivato il momento di passare da così a così? la risposta è una sola lingerissimo basta scegliere la stessa misura dei vostri abiti ed entrerete nel più comodo e versatile reggiseno che abbiate mai indossato sia che siate minute o molto formose avrete sempre un reggiseno comodissimo che si adatta al vostro corpo ed esalta le vostre forme senza darvi quella spiacevole sensazione di disagio tipica dei reggiseni classici col ferretto e con i ganci che non vedete l'ora di togliere con lingerissimo invece potrete addirittura tenerlo per dormire esatto anche durante la notte sarete fresche comode sostenute perfettamente avvolte ed avrete anche un aspetto sexy ed attraente non si deformerà nel tempo non passerà mai di moda e dopo aver provato il comfort di lingerissimo non lo cambierete per nessun'altra cosa al mondo allora cosa aspettate? dite addio a quei rotolini di ciccia che rovinano il vostro aspetto lingerissimo modella il vostro corpo rendendolo liscio e perfettamente sostenuto assicurandovi sempre la misura giusta per voi e una presenza elegante e femminile non cercatelo nei negozi e non aspettate che vi costi di più chiamate adesso e approfittate di questa promozione incredibile lingerissimo è tutto un altro mondo vedete questa guaina con effetto push up realizzata dai creatori di lingerissimo per contenere la pancia e sollevare i glutei? è assolutamente perfetta nel design anatomica e comoda da indossare per le prime 30 telefonate sarà inclusa nell'offerta lingerissimo dunque non esitate chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di 3 reggiseni assortiti bianco, nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio avete sentito? basta una telefonata per approfittare di questa fantastica offerta e provare lingerissimo è davvero comodissimo da quando ho scoperto lingerissimo ho risolto definitivamente i miei problemi che avevo con i reggiseni tradizionali bentornate quindi i reggiseni lingerissimo sono unici non temono confronti né per qualità né per versatilità ma adesso andiamo a vedere con che tipo di abbigliamento possiamo abbinarli per lo sport per il lavoro per una serata speciale o anche per la notte e questo perché lingerissimo ha un design veramente moderno e possiamo adattarlo ad ogni tipo di abbigliamento quindi dal capo più sportivo a quello più elegante danno sostegno una bella forma e soprattutto una grande comodità e adesso andiamo a provare l'elasticità e la qualità del tessuto di lingerissimo erica mi vuoi dare una mano? proviamo a tirare anche forte è tornato nella sua forma originaria liscio e perfetto come seta lingerissimo l'ultima frontiera del reggiseno elasticizzato fresco sexy comodo e super resistente è lavabile in lavatrice e non si deforma col tempo facilissimo da indossare basta infilarlo dalla testa o addirittura dai piedi senza ganci asole o ferretti lingerissimo sostiene avvolge e rende il vostro aspetto ancora più sexy lasciandovi tutto il giorno comodo e belle un'altra caratteristica importante di lingerissimo sta nella scelta della taglia beh vi dirò la verità io non indovinavo mai sarà la coppa B la C la D insomma sbagliavo sempre ma avete notato perché? perché la taglia di una marca non corrisponde mai alla stessa taglia di un'altra marca ma con lingerissimo questo problema non lo avrete più perché dovrete scegliere la taglia del vostro top o di una camicia o di un abito la stessa identica taglia quindi dalla X small alla XXXL è semplicissimo lingerissimo sostiene avvolge e rende il vostro aspetto ancora più sexy lasciandovi tutto il giorno comode e belle lingerissimo è tutto un altro mondo vi assicuro cari amiche che lingerissimo diventerà un capo di cui non potrete più farne a meno e poi un capo versatile ci sono tanti modi di usare lingerissimo ecco guardate per esempio la nostra Sabrina che lo indossa sovrapposto con diversi colori oppure la nostra Erika vedete lo sta indossando sotto una camicia ma è un capo davvero versatile lo potete indossare per andare a fare shopping per andare a fare una passeggiata per andare in palestra addirittura anche per andare a dormire vi ricordate delle spalline dei gancetti dei ferretti delle cuciture è giunto il momento di approfittare di lingerissimo restate con noi lingerissimo è l'ideale per me che faccio sport perché posso lavarlo quando voglio senza che mi si rovini non credete sia arrivato il momento di smetterla di lottare con i reggiseni scomodi e che vi stanno male non credete sia arrivato il momento di passare da così a così la risposta è una sola lingerissimo basta scegliere la stessa misura dei vostri abiti ed entrerete nel più comodo e versatile reggiseno che abbiate mai indossato sia che siate minute o molto formose avrete sempre un reggiseno comodissimo che si adatta al vostro corpo ed esalta le vostre forme senza darvi quella spiacevole sensazione di disagio tipica dei reggiseni classici col ferretto e con i ganci che non vedete l'ora di togliere con lingerissimo invece potrete addirittura tenerlo per dormire esatto anche durante la notte sarete fresche comode sostenute perfettamente avvolte ed avrete anche un aspetto sexy ed attraente non si deformerà nel tempo non passerà mai di moda e dopo aver provato il comfort di lingerissimo non lo cambierete per nessun'altra cosa al mondo allora cosa aspettate dite addio a quei rotolini di ciccia che rovinano il vostro aspetto lingerissimo modella il vostro corpo rendendolo liscio e perfettamente sostenuto assicurandovi sempre la misura giusta per voi e una presenza elegante e femminile non cercatelo nei negozi e non aspettate che vi costi di più chiamate adesso e approfittate di questa promozione incredibile lingerissimo e tutto un altro mondo vedete questa guaina con effetto push up realizzata dai creatori di lingerissimo per contenere la pancia e sollevare i glutei è assolutamente perfetta nel design anatomica e comoda da indossare per le prime 30 telefonate sarà inclusa nell'offerta lingerissimo dunque non esitate chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di tre reggisegni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio avete sentito? basta una telefonata per approfittare di questa fantastica offerta e provare lingerissimo secondo me il detto siamo nati per soffrire lo ha inventato una donna mentre indossava uno di quei tanti reggiseni che veramente quotidianamente ci fanno soffrire o sono troppo stretti o sono troppo larghi o stringono e ci fanno male insomma è una vera e propria sofferenza di cui faremmo volentieri a meno ma finalmente possiamo risolvere questo problema con lingerissimo lingerissimo è un prodotto veramente straordinario è sinonimo di comfort e di bellezza che sono due elementi essenziali nella vita quotidiana di ogni donna e finalmente possono diventare conciliabili ma prima di parlarvi delle caratteristiche che rendono unico lingerissimo vorrei lanciarvi una sfida vediamo se indovinate quale di queste due ragazze non indossa il reggiseno adatto a lei e quindi pregherei il nostro regista di fare una bella inquadratura a queste due bellissime donne accanto a me credo che chiunque di voi abbia notato la differenza tra questo e questo reggiseno prego Cristina vieni qui da me come possiamo notare anche le più piccole imperfezioni di un qualsiasi reggiseno in commercio diventano veri e propri difetti quindi deformando l'abito che indossiamo compromettendone la grazia e l'eleganza il reggiseno classico con le bretelle le asole i ferretti i gancetti deforma il vestito provocando anche un rossore e un pruito che sono veramente fastidiosi vedete queste sporgenze che si formano sotto le ascelle oltre a essere particolarmente fastidiose vero Cristina? sì non vedo l'ora di togliere ecco appunto fastidiosissime creano un prurito addirittura delle scoriazioni insomma un senso di costrizione davvero insopportabile posso abbinarlo a qualsiasi abbigliamento elegante e sportivo avendo sempre lo stesso sostegno mi sento fasciata e protetta non c'è niente da fare un cattivo reggiseno può compromettere l'aspetto estetico della nostra figura e allora grazie Cristina puoi andare in camerino a togliere il tuo vecchio reggiseno e indossare il tuo lingerissimo non sopportavo più i miei vecchi reggiseni mi davano continuamente fastidio e non ne trovavo uno adatto ai miei vestiti più belli da oggi però con lingerissimo questo problema fortunatamente è solo un ricordo guardate qui anch'io da quando uso lingerissimo non ho più voglia di usare reggiseni classici credetemi è tutto un altro mondo il reggiseno lingerissimo è prodotto da una macchina ultramoderna ideata per confezionare reggiseni che sostengono senza bisogno di alcun ferretto ed ecco un prodotto completamente liscio sui lati senza ganci e asole per assicurarvi un comfort perfetto è fatto di un materiale risultato da numerosi progetti industriali che hanno portato alla fabbricazione di un tessuto completamente antiallergico elasticizzato e che non si deforma col tempo e coi lavaggi l'arricciatura sotto il seno realizzata con morbide e sottili cuciture fa sì che chi lo indossa rimanga fresca ma allo stesso tempo protetta e sostenuta generando così una piacevole sensazione di benessere chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di 3 reggiseni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio non credete sia arrivato il momento di smetterla di lottare con i reggiseni scomodi e che vi stanno male non credete sia arrivato il momento di passare da così a così la risposta è una sola lingerissimo basta scegliere la stessa misura dei vostri abiti ed entrerete nel più comodo e versatile reggiseno che abbiate mai indossato sia che siate minute o molto formose avrete sempre un reggiseno comodissimo che si adatta al vostro corpo ed esalta le vostre forme senza darvi quella spiacevole sensazione di disagio tipica dei reggiseni classici col ferretto e con i ganci che non vedete l'ora di togliere con lingerissimo invece potrete addirittura tenerlo per dormire esatto anche durante la notte sarete fresche comode sostenute perfettamente a volte ed avrete anche un aspetto sexy ed attraente non si deformerà nel tempo non passerà mai di moda e dopo aver provato il comfort di lingerissimo non lo cambierete per nessun'altra cosa al mondo allora cosa aspettate dite addio a quei rotolini di ciccia che rovinano il vostro aspetto lingerissimo modella il vostro corpo rendendolo liscio e perfettamente sostenuto assicurandovi sempre la misura giusta per voi e una presenza elegante e femminile non cercatelo nei negozi e non aspettate che vi costi di più chiamate adesso e approfittate di questa promozione incredibile lingerissimo e tutto un altro mondo vedete questa guaina con effetto push up realizzata dai creatori di lingerissimo per contenere la pancia e sollevare i glutei è assolutamente perfetta nel design anatomica e comoda da indossare per le prime 30 telefonate sarà inclusa nell'offerta lingerissimo dunque non esitate chiamate ora alle prime 30 persone che chiameranno lingerissimo sarà disponibile con questa irripetibile offerta lancio il set completo di 3 reggisegni assortiti bianco nero e color carne più questa fantastica guaina contenitiva lingerissimo con effetto push up del valore di 50 euro in omaggio avete sentito? basta una telefonata per approfittare di questa fantastica offerta e provare lingerissimo